Ci sono anche due demandanti dell'omicidio di matrice camorristica del consigliere comunale PD Geno Tomasino ucciso a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli il 3 febbraio 2009 tra le sei persone arrestate questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le indagini dei militari avrebbero consentito di individuare dopo 15 anni dall'uccisione di Tomasino in Vincenzo D'Alessandro e Sergio Mosca detenuto al 41 bis le figure dei presunti mandanti. Era pieno giorno ed il consigliere si trovava in auto a Viale Europa con accanto il figlio allora a 13enne rimasto illeso nell'agguato quando fu raggiunto dai sicari che spararono una raffica di colpi di pistola. Gli arresti di stamattina chiuderebbero dunque il cerchio sull'omicidio per il quale erano già stati condannati gli esecutori materiali del delitto Catello Romano e Renato Cavaliere a 30 anni e Salvatore Belviso e Raffaele Polito che decisero di diventare collaboratori di giustizia rispettivamente a 18 e 12 anni. Le indagini secondo quanto emerge avrebbero consentito anche di far luce sul movente dell'omicidio. Alla base ci sarebbero motivazioni di natura economica.